Non si ferma il mercato amaranto, entrano a far parte dell'arezzo calcio femminile Isottanocchi, Giorgia Casula e Aurora Prosperi, tutte provenienti dalla Fiorentina Woman. Attaccante classe 96, Isottanocchi si avvicina al calcio a soli 7 anni, indossando sempre la maglia viola, ottenendo un gran numero di vittorie a livello giovanile ed entrando nelle ultime stagioni a far parte della rosa della prima squadra. del capoluogo toscano. Classe 95, Giorgia Casula è invece un prodotto del vivaio Targato e Torres, formazione con cui ha vinto uno scudetto, una supercoppa, sotto la guida della neo allenatrice amaranto, Manuela Tesse. Prima di approdare alla Fiorentina, Casula ha vestito anche la maglia dell'Oristano ed ha giocato nel campionato statunitense con il Siatto al Tacoma. Dopo una sola stagione con la maglia gigliata, torna nella sua arezzo anche la giovane centrocampista Aurora Prosperi, cresciuta nel settore giovanile della Stella Azzurra. Sono davvero soddisfatto di questi tre acquisti perché completano la rosa rendendola funzionale al nostro obiettivo, vale a dire il mantenimento della categoria, commenta il direttore generale Artemio Scardicchiori. Ringrazio la dirigenza Viola per aver reso possibili questi trasferimenti e augura a tutte le giocatrici di potersi esprimere al meglio durante la loro permanenza in amaranto.